ok perfetto ci siamo buonasera a tutti grazie disattivo un po di microfoni ok grazie a tutti per esservi connessi anche questa sera ai fedelissimi che ormai ci seguono da due questo è il terzo incontro e hai qualche viso nuovo e terza serata uno delle nostre paure era quella di affrontare tematiche sempre simili invece nei primi due incontri abbiamo visto come in realtà gli argomenti sono stati molto diversi volevo fare un attimo un riassunto dei primi due incontri prima di passare al terzo molto brevemente nel primo incontro abbiamo incontrato Gabriele Crudo produttore del pecorino del Monte Poro Presidio Slow Food e con lui le difficoltà di portare avanti una piccola azienda nelle aree montane della Calabria facendo fronte all'abbandono delle terre alte causato soprattutto da una concorrenza spietata sui prezzi che hanno reso difficile un ricambio generazionale generazionale creando una frattura sul territorio e lentamente ci ha raccontato Gabriele si sta cercando di ricomporre cercando nuovi mercati ci ha parlato dei gas ci ha parlato del rapporto con i ristoranti del tipo di servizio che viene offerto nei confronti dei ristoranti ma contando anche sulle nuove tecnologie su un nuovo modello di eh turismo dove di successivo abbiamo continuato a parlare di formaggio ci siamo spostati all'estremo posto e nelle eh in Valgerola e abbiamo incontrato Carlo per parlare dello storico ribelle l'ex ditto e e abbiamo invece affrontato una problematica diversa cioè la difficoltà di far sopravvivere una tradizione casearia centenaria di fronte alle spinte di poteri economici molto più forti e di un sistema maletato alle regole della religiosca comprendo però che il valore che questa ribellione ha generato ha reso lo storico ribellico conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e ha fatto sì appunto che questa esperienza potesse eh proseguire anche incontrando appunto dei giovani caricatori di malghe e è stato di sicuro un incontro interessantissimo sotto molti eh punti di vista oggi invece andiamo in centro Italia incontriamo Ettore Ciarotta che è un produttore della eh l'inticchia di Santo Stefano di Sessagno e siamo eh nella zona del Parco Nazionale del Gran Sasso e beh di solito non non facciamo grandi presentazioni perché preferiamo che si presenti l'office quindi Ettore ti ringraziamo per la tua disponibilità e ci chiediamo insomma di iniziare a presentare il il prodotto il territorio e eh l'azienda che che rappresenti. Sì buonasera a tutti grazie di avermi coinvolto in in questa iniziativa. Mi chiamo Ettore come diceva Tommaso e niente il territorio è Santo Stefano di Sessagno precisamente è un piccolo paesino di pochissimi abitanti meno di settanta alle pendici del Gran Sasso all'interno del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga. Il prodotto per cui siamo rinomati siamo famosi almeno sul territorio regionale e sempre di più su quello nazionale sono le le lenticchie di Santo Stefano che prendono il nome sia dal posto in cui vengono coltivate ma sono riconosciute come biotipo definito quindi il nome lenticchie di Santo Stefano rappresenta una vera e propria varietà di legume. Sono sono le lenticchie molto particolari sono molto piccole hanno delle delle dimensioni di circa tre o quattro centimetri e millimetri e il colore violaceo rossiccio dipende un po' dalle un po' dalle stagioni e hanno delle caratteristiche nutrizionali organolettiche superiori alla classica lenticchia commerciale quindi il contenuto di ferro è è molto alto il il gusto è particolarmente intenso il tempo di cottura grazie al fatto che le coltiviamo a quote molto elevate normalmente intorno ai mille e quattrocento mille e seicento metri proprio al ridosso del dell'alto piano di Campo Imperatore hanno dei tempi di cottura brevi e niente delle rese importanti non non si rompono e quindi diciamo hanno un risultato in cucina molto molto apprezzato diciamo che la lenticchia rappresenta la il il prodotto principale dell'economia agricola che che c'è qui a Santo Stefano anche se il territorio è è famoso anche per per altri prodotti e per altri motivi. Sentivo il il discorso del primo incontro della difficoltà dell'abbandono delle aree montane noi ci troviamo esattamente in un in un'aria interna come viene definita di solito l'aria viene definita interna quando ci vogliono più di 40 minuti per arrivare all'ospedale più vicino almeno questo fa fa il census noi stiamo proprio nelle nelle aree più interne del Gran Sasso ma a differenza di altri di tanti altri posti ci troviamo in un territorio molto molto particolare Santo Stefano nonostante abbia 70 65 abitanti più o meno arriva ad ospitare più di 35 mila persone l'anno quindi noi abbiamo trovato nel nella sinergia con il turismo lo sfogo e il diciamo il mercato del nostro prodotto quindi abbiamo creato una una piccola economia che ha delle caratteristiche secondo me uniche noi non abbiamo prodotto in venduto non abbiamo problemi di commercializzazione perché grazie al al grande flusso turistico ma anche al al valore del prodotto riusciamo a vendere a vendere un po' tutto brevemente diciamo parlando di di legumi la lenticchia rappresenta essendo un legume rappresenta un tipo di cultura sostenibile per definizione quindi noi oltre a abbiamo delle pratiche agronomiche sostenibili abbiamo facciamo la cultura biologica ma questo perché abbiamo conservato le abitudini che avevano i nostri i nostri antenati mio padre mio nonno e e quelli prima di loro quando quando non aveva senso parlare di di convenzionale o di biologico questo tipo di legume ci permette quindi di avere delle pratiche virtuose noi non usiamo chimica non usiamo concimi e usiamo anche pochissimo l'etame animale il sovescio è è l'unica è l'unica pratica fondamentalmente che utilizziamo per il rinnovo del per il rinnovo del terreno e niente le lenticchie vengono coltivate in in terreni che vanno al di sopra dei 1200 metri hanno un ciclo biologico molto molto breve quindi vengono seminate orientativamente dipende tanto dalla stagione ma di solito verso la fine di marzo i primi di i primi di aprile e niente nel mese di giugno si colorano così come succede nelle altre vallate più famose come quelle di norcia di castelluccio si colorano di di fiori insomma che non sono quelli delle lenticchie poi su questo argomento limite ci ritorniamo un attimo il quindi il mese di giugno fioriscono se la stagione è clemente se piove la temperatura è è corretta il mese di luglio sono pronte e niente e abbiamo la raccolta le rese sono basse non superiamo i 15 16 quintali ettaro però il insomma comunque il 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 prodotto è molto remunerativo anche perché la quantità di seme che utilizziamo è molto molto piccola noi mettiamo seminiamo circa 160 kg 160 kg ettaro quindi la la raccolta avviene alla fine di i primi di agosto la metà di agosto e niente la pulitura la svecciatura il confezionamento normalmente sono pronte per la vendita nel nel mese di settembre che sia un prodotto valido che sia buono insomma l'avrete sentito parlare l'avrete sentito dire di tutti i prodotti che vengono raccontato raccontati ma quello per cui insomma quello che mi piace puntualizzare non è tanto la bontà del prodotto su cui abbiamo fatto poco insomma è più un'eredità di di mare natura quello che noi abbiamo creato qui a santo stefano è un è un discorso diciamo un po più un po più ampio noi abbiamo creato una specie di cooperativa di di ore mettiamo a disposizione ore e collaboriamo fra le varie persone che coltivano le lenticchie che purtroppo sono sempre di meno senza concorrenza perché abbiamo l'opportunità di vendere tutto senza senza problemi non abbiamo venduto abbiamo stabilito un prezzo che riteniamo equo per la lenticchia quindi non varia a prescindere dalla domanda o dalla resa annuale quindi dalla disponibilità del prodotto è di circa 13 euro al chilo che comunque è un valore per quelle che sono normalmente le granelle molto molto alto e quindi riusciamo a collaborare in maniera amichevole senza senza quella che è la concorrenza la lotta dei prezzi oppure le quelle le dinamiche che normalmente avvengono nelle nelle aziende concorrenti quello che facciamo è anche collaborare fra di noi e questo diciamo è necessario per sopperire alla mancanza di di mano d'opera perché avendo diciamo delle produzioni molto molto dedicate abbiamo sia difficoltà nel reperire personale preparato comunque che sia in grado di di svolgere il lavoro e soprattutto abbiamo difficoltà a reperirlo quindi questo metodo di collaborazione che abbiamo instaurato ci permette comunque di di continuare avanti e sopperire a quelle che sono le attività che che richiedono più più impegno come la semina la raccolta e questo diciamo rappresenta uno dei dei degli aspetti secondo me più più importanti che abbiamo che abbiamo messo in atto il il problema è che col tempo il le persone che che tornano all'agricoltura come come ho fatto io prima durante all'inizio ho dimenticato di dirvi ma prima di fare l'agricoltore per 15 anni ho fatto l'ingegnere e nel 2014 sono tornato nell'azienda nell'azienda di famiglia quindi io sono la terza generazione fino a a mio pari diciamo era un'attività di sussistenza quindi era allevamento e produzione agricola di sussistenza poi alla fine degli anni settanta primi anni settanta abbiamo iniziato anche noi a commercializzare le lenticchie però diciamo il il ritorno a questo tipo di attività è è molto limitato quindi anche qui le aree interne le aree montane si stanno spopolando e le persone che si dedicano a questa attività sono sono sempre sono sempre di meno uno dei motivi che che ha portato diciamo all'abbandono che comunque mina il questo tipo di attività è la presenza della fauna selvatica noi dico purtroppo anche se è una frase che che stona insomma nella nel discorso noi purtroppo ci troviamo all'interno del parco nazionale e subiamo una quantità di danni infinita sui raccolti quello che c'è che che normalmente viene raccontato è che i cinghiali caprioli ci mangiano il raccolto e noi veniamo indennizzati dal parco quello che c'è quello insomma il danno fisico la la mancanza del raccolto è solo il l'aspetto più evidente di quello che il danno a parte il il dolore diciamo personale nel vedersi distrutto il raccolto o la cultura che su cui si è lavorato più anni il problema è che questa presenza massiccia di animali e di di fauna selvatica è innescato delle diseconomie importanti noi siamo costretti a recintare tutti i campi che coltiviamo facciamo i recinti elettrici io personalmente stendo il mese di giugno più di 30 chilometri di recinti elettrici che purtroppo negli anni hanno perso efficacia perché gli animali imparano col tempo hanno l'istinto atavico della fame che è onnipresente quindi hanno capito come a girare i recinti come saltarli come passarci sotto quindi l'efficacia è molto relativa spesso ci si rimette alla fortuna che non passano perché la presenza è talmente massiva noi abbiamo branchi da più di 200 animali che che scorrazzano liberi nel parco e quindi è un problema più che altro di traffico anche se se nel tempo hanno modificato le abitudini alimentari perché avendo a disposizione un sacco di legumi verdi hanno imparato a mangiarli e quindi diciamo il danno oltre alla classica buca che era tipica dei cinghiali quelle che fanno si prati le lenticchie nostre se le pascolano e e quindi diciamo questo è uno dei motivi che che ha reso più difficoltoso la la coltivazione in questo in questo territorio che poi è un territorio che è stato negli anni molto caratterizzato dalla cultura delle lenticchie noi ci troviamo nel nell'area del parco nazionale ma più precisamente nella 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 baronia nell'area della baronia il nostro paese era famoso nel nel 1200 per la produzione di lana nera è sempre stato un paese molto ricco il prezzo europeo della lana a quei tempi veniva stabilito qui qui a santo stefano ed era molto famoso pure per la presenza del del per il passaggio del tratturo magno la strada che portava le greggi dall'abruzzo verso le puglie per per il periodo invernale la produzione delle lenticchie era strettamente integrata all'attività pastorale e al e al transito dei greggi il siamo definiti da dall'unesco il territorio dei campi aperti perché non abbiamo muretti non abbiamo confinamenti tutti i sassi che oggetto delle bonifiche secolari dei vari terreni quindi lo spietramento dei terreni fatto negli anni è stato i sassi sono stati raggruppati in in macerine noi non abbiamo i classici muretti che trovate spesso in molise in buia che contornano i terreni questo perché il transito degli animali era era molto importante quindi i muretti avrebbero ostacolato il passaggio in più gli animali venivano utilizzati come il disservante naturale durante l'autunno venivano portati a pascolare sopra i terreni di grano di segale per portar via per pulire per pulire l'erbaccia questa diciamo questa divisione di terreni in strice diventa tutta variopinta assume degli aspetti cromatici bellissimi il mese di giugno come succede nelle vallate di norcia di castelluccio quello che però pochi sanno che diciamo la lenticchia produce un fiore molto particolare un po come il fiore del nocciolo è praticamente invisibile al al di fuori del terreno perché è all'interno di una campanella però come tutti i legumi la lenticchia fissa l'azoto molecolare quindi arricchisce durante il periodo di permanenza il terreno di azoto l'anno dopo la semina delle lenticchie crescono i fiori colorati che che poi colorano e caratterizzano le vallate quindi spesso le foto che vengono fatte alle vallate non solo alle lenticchie ma i campi dove le lenticchie sono stati l'anno prima noi diciamo a c'è il l'effetto turistico l'effetto sulla presenza poi di di tanti appassionati che vengono a fare le fotografie o a guardare i campi è molto importante però da produttore preferisco che non ci siano tanti fiori in mezzo alle lenticchie preferisco il campo il campo pulito anche se diciamo da un punto di vista paesaggistico è meno è meno è meno rilevante grazie no non ti ho interrotto perché insomma il racconto era molto interessante è difficile senza interlocutori poi spesso uno sembra come questa parla da solo no no ma grazie mille io ovviamente invito tutti come le altre volte a fare domande intervenire scrivere nella chat eventualmente le lettiamo noi oppure attivare il microfono e farle e farle direttamente e ci raccontavi appunto della tua esperienza personale dopo 15 anni appunto ritorni a fare agricoltura e ecco spinto spinto da cosa e con quali con quali obiettivi hai ripreso in mano appunto l'azienda di famiglia l'hai trasformata da un'azienda che da quello che ho capito faceva un po' da contorno del resito familiare la tua attività principale giusto per te e per la tua famiglia beh sì prima diciamo che era un'attività secondaria anche se rappresentava una parte importante dell'economia di famiglia mio padre era era professore quindi insegnava a scuola e anche mia madre lavorava nella lavora nell'ambito scolastico però diciamo la l'azienda era stata un po' abbandonata come succede con tutte le attività come è successo quasi in tutta italia con le piccole imprese familiari poi nel 2014 l'azienda per cui ho lavorato è fallita perché poi per i cambi di vita così così drastici ci vuole sempre un evento traumatico se no uno passa la vita a sognare di andare sul trattore invece sta sulla macchina sulla tangenziale va al posto di lavoro se non se non c'è un evento particolare è difficile cambiare in questo modo così radicale però diciamo la passione per questo territorio la passione per per l'agricoltura per quello che era anche la storia di famiglia mi è stata tramandata da piccolo io ho sempre ho passato l'estate le domeniche le giornate libere insieme a mio nonna a mio padre in in campagna quindi quell'attaccamento al al mondo agricolo l'ho sempre avuto e niente a 40 anni ho pensato che forse era il momento di di dare una svolta se non sarebbe stato forse troppo tardi la fortuna che ho avuto cioè questo passaggio io l'ho potuto fare proprio perché ci troviamo qui in questo territorio così particolare la mia azienda ha venticinque ettari di seminativo cioè non è un non è una grande azienda quella di mio pare ce n'aveva dieci undici io ho incrementato un po ma perché grazie al soprattutto al fatto di essere ingegnere meccanico mutuato delle competenze che non sono proprie del del mondo agricolo quindi ho cercato siamo riusciti sono riuscito a automatizzare diciamo il più possibile l'attività di raccolta non solo delle lenticchie ma anche di di tutti quegli altri prodotti di cui mai nessuno parla che però fanno da da cornice alla alla produzione che virtuosa della lenticchia perché per poter coltivare in quel modo c'è bisogno di 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 effettuare una rotazione a volte quadriennale a volte sessennale quindi i prodotti che vengono coltivati insieme alla lenticchia sono sono tanti alti tanti altri però diciamo in in santo stefano si è creato questa questa unione profonda tra tra turismo e agricoltura quindi c'è stata una grossa terrorizzazione dei prodotti che ha permesso quindi di commercializzare in maniera remunerativa anche perché noi abbiamo tutti quanti o quasi tutti comunque la il punto vendita la la filiera corta quindi incameriamo anche il il profitto di quelli che normalmente commercializzano i prodotti e questo ci permette di di andare avanti perché le le stagioni insomma sono sempre particolari abbiamo questa enorme spada di damocle sopra la testa che la fauna selvatica e quindi da un giorno all'altro ha il prodotto non ha il prodotto perché poi quando io forse sarà un po come l'esaurimento il fatto che che è un problema che sento molto perché è molto personale però diciamo il problema della fauna ci crea dei grossi danni anche commerciali noi non siamo in grado di stringere accordi di effettuare contratti quadri di prenotare diciamo la vendita dei dei prodotti perché fino al giorno in cui non abbiamo trebbiato e non abbiamo messo il prodotto nel sacco non siamo mai certi di mai certi di averlo quindi questo diciamo è il è l'unico neo che che oscura un po la situazione perché negli anni devo dire dal 2014 ad oggi da quando ho iniziato questo percorso la situazione è molto migliorata il volume di lenticchie che riusciamo a commercializzare è molto aumentato in più avendo il grosso problema della contraffazione perché insomma persone esperte di legumi o in grado di riconoscere una lenticchia piuttosto che un'altra sono molto pochi quindi uno dei grossi problemi che abbiamo producendo poche lenticchie è che tanti ne vendono le lenticchie commerciali che spesso vengono dal canada dalla turchia dal dal nord africa come lenticchie di santo stefano quindi anche su questo aspetto diciamo abbiamo migliorato molto la situazione oggi qui a santo stefano vengono consumate solo lenticchie di santo stefano soprattutto nei ristoranti lasciamo perdere l'anno che è trascorso diciamo quello che verrà speriamo vada meglio però il volume di persone che mangia prodotti del territorio è enorme e noi diciamo rispetto a quanti dicono di fare un turismo esperenziale un turismo autentico noi effettivamente lo facciamo qui a santo stefano si mangiano le cose che vengono prodotte a santo stefano che penso ci dia un un qualcosa in più rispetto a a tutti gli altri insomma che fanno più o meno un lavoro simile questa è una una parte del discorso che ci interessa particolarmente anche per il nostro territorio per le ambizioni che abbiamo sul nostro territorio quindi magari chiediamo di approfondire un po' come è nato questo progetto turistico come si è riuscito a coinvolgere tutti gli operatori dei ristoratori a le partite ive dell'accoglienza che dicevi essere più numerose degli abitanti eh in che anni è nato e grazie a quali fattori eh si è sviluppato un un progetto così virtuoso beh diciamo che in parte è stato è stato dovuto al un po' alla fortuna e quella insomma ci vuole sempre un po' alla lungimiranza delle vecchie amministrazioni perché il il percorso il processo turistico che ci ha portato a questo punto nel 2018 qui a santo Stefano è iniziato alla all'inizio degli anni novanta a metà degli anni novanta quindi è stato diciamo un percorso molto lungo che ha che ha fatto sì che venissero valorizzati questi territori con delle politiche con delle delle attività di propaganda poi noi abbiamo avuto l'enorme fortuna nel 2004 un imprenditore del territorio di Pescara un paese qui vicino ha rilevato una quota importantissima del paese circa il 30 per cento ristrutturandolo secondo i canoni diciamo secondo uno spirito architettonico aderente a quello che era l'architettura del del paese e ha e ha fatto un'enorme proporzione turistica noi abbiamo uno dei primi alberghi diffusi che si trova che si trova in Italia quindi un po' diciamo la l'attività fatta dall'amministrazione un po' quella fatta dai singoli cittadini e poi diciamo il capire che quello che noi riusciamo a proporre non è un servizio particolare perché il turismo che viene fatto in questi territori è spesso un turismo fatto da persone che facevano un altro lavoro non non siamo dei professionisti o delle persone che hanno studiato con il proposito di diventare operatori turistici io facevo l'ingegnere le altre persone chi era maestra chi era professoressa chi faceva l'idraulico la gran parte dei giovani e questo pure è un altro punto interrogativo la gran parte dei giovani quei pochi che ci sono saranno 6 7 sono tutti laureati c'è il mio cugino è laureato in economia e commercio a un ristorante un'amica e psicologo a a un negozio di diciamo una gastronomia quindi pure su questo bisognerebbe farsi farsi qualche domanda mi sono perso il filo mi dispiace e il presidio slow food in che hanno intervenuto in questo 2005 ah ok molto tempo fa sì sono siamo stati uno dei primi presidi presidi abruzzesi quello pure ha dato un'enorme spinta a quella che è stata a quello che è la lenticchia di santo stefano però quello che abbiamo visto noi il metodo migliore è il passaparola è la è la prova cioè il poter assaggiare il prodotto apprezzarlo e poi tornare a comprarlo cioè diciamo la pubblicità la carta i volantini aiutano veramente poco la gran parte dei clienti che abbiamo sono clienti che poi rimangono negli anni perché capiscono che il prodotto che proponiamo è effettivamente diverso o che comunque è autentico perché c'è è un po come il discorso del parmigiano un po come non lo so l'olio extravergine che si trova che si trova dovunque noi diamo effettivamente quello che diciamo le lenticchie di santo stefano di fatti il nostro prodotto spesso finisce tanto l'anno scorso per esempio a che era un anno normale a natale le lenticchie erano tutte finite sarebbe facile approvvigionarle per via insomma traverse e continuare a vendere però questo non non premia il gli operatori turistici si sono sensibilizzati sull'utilizzo della vera lenticchia perché hanno visto che c'è un effettivo ritorno economico anche nella anche nella ristorazione i ristoranti hanno creduto fin da subito in questo progetto o è stato difficile coinvolgerli beh tanto difficile no però il non hanno creduto all'inizio qui a santo stefano nessuno comprava le lenticchie di santo stefano primo perché se ne producevano poche e quindi non c'era disponibilità spesso di prodotto e quindi non avendo diciamo comunità nell'anno è difficile rimanere poi no tra i tre fornitori quindi un po è aumentato il prodotto è un po essendo veramente pochi qui c'è qui non si parla di di attività o di tendenze o di opinioni qua ci vai dalla persona e ci parli e gli dici che deve usare le lenticchie buone perché siamo noi non è che da questo punto di vista insomma è molto più facile e poi quando le persone vedono che la cosa funziona non c'è bisogno di grossi invidio di grossi incentivi insomma le cercano da soli ci sono avevo dimenticato di accendere il carico batteria e ok intanto arriva una domanda giulia ci chiede se gentilmente potrebbero spiegare perché la fioritura non è quella delle lenticchie ma dei fiori dicevo prima perché praticamente la lenticchia ha un fiore bianco piccolissimo ed ha una forma di campanella appesa verso il basso quindi a meno che uno non arriva proprio nei pressi del terreno e si inginocchia all'altezza delle lenticchie che circa 15 centimetri è difficilissimo vederlo però come tutti quanti i legumi le lenticchie nelle nelle radici hanno dei batteri che fissano l'azoto molecolare l'n2 trasformandoli in ammoni quindi in 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 azoto fruibile alle colture che verranno dopo il legume quindi tutte le piante che vengono seminate dopo che nascono spontaneamente dopo nel terreno sono normalmente piante azotofile le piante azotofile per eccellenza sono i fiori spesso i papaveri per esempio i fiordalisi quindi la fioritura celeste oppure arancione oppure gialla quella delle margherite perché un altro fiore che che spesso cresce in mezzo alle lenticchie sono le margherite quelle per la capomilla sono di solito nascono nel terreno dopo che ci sono state le lenticchie anche perché lo spirito di chi le raccoglie e di averle pulite di non averci fiori in mezzo ok grazie ci sono altre domande intanto prima di proseguire maurizio ha una domanda attiva l'audio maurizio io l'audio riattivato e ciao ettore ciao e senti io volevo sapere ad esempio la composizione su che terreno vengono coltivate la composizione proprio del terreno le lenticchie e poi ho sentito quello lo fai con metodo vengono coltivate con metodo biologico e avevi parlato di sovescio quindi tutti i campi vengono un anno sì un anno no praticamente coltivati oppure riesci in un anno a fare il sovescio e quindi riprendere l'anno dopo visto che il tempo è limitato hai detto da da aprile a metà a metà agosto insomma la raccolta e dopo un'altra domanda che è quella che che macchinari usate perché io coltivando peperoncino il problema della della rotazione dei terreni e non mi dispiacerebbe fare delle prove comunque del metter giù le lenticchie o ha un altro tipo di legume ecco il terreno che diciamo su quelle coltivano è un terreno calcario quello quelli che definiscono terreni sciolti molto molto leggeri anzi le lenticchie preferiscono terreni con con poco nutrimento preferiscono terreni diciamo sassosi o o comunque con con poche caratteristiche con poco nutrienti quello che facciamo nella rotazione è la rotazione è quadriennale facciamo il sovescio però il sovescio lo facciamo al quarto anno di solito alterniamo due anni di cereali che di solito sono un grano tenero o o il farro per esempio prima seminavamo la segale che è che si adatta molto bene ai crimi montani ma se la mangiano appena la poggi per terra quindi è sparita completamente avevamo anche una varietà particolare e non la non la seminiamo più quindi il sovescio lo facciamo al quarto anno però normalmente noi mettiamo le lenticchie dopo i due anni a seguire mettiamo i cereali e poi mettiamo le foraggere la foraggera l'ultimo anno la la sovesciamo la mettiamo sotto terra quindi all'interno di un unico anno facciamo un unico ciclo poi stando in montagna la stagione nostra finisce a settembre praticamente quindi per nessuna cultura riusciamo a fare riusciamo a fare due cicli il problema della rotazione ce l'abbiamo anche noi perché diciamo quello che seminiamo che sono poi i cereali perché in fondo a dirlo in maniera molto semplicistica il principio è mettere azoto con i legumi e togliere azoto con i cereali il problema che i cereali hanno dei hanno un valore basso e vengono danneggiati in maniera enorme non è verosimile recintarli perché il prezzo di vendita non giustificherebbe la fatica del del recinto e quindi anche noi abbiamo difficoltà a trovare un prodotto per la rotazione da quello che so cioè da quello che che posso immaginare il peperoncino è un po simile alle lenticchie perché fa dei frutti molto grandi rispetto al volume della pianta quindi probabilmente la lenticchia non è adatta all'alternanza con il peperoncino che secondo me ha bisogno di tanto potassio anche io mandavi anche dei macchinari forse che vengono utilizzati per i macchinari questo insomma ci tengo un po a dirlo perché siamo stati bravi noi a prima le lenticchie si facevano mia zia maria che che non c'è più adesso le falciava con la faciglia quella che il falcetto non so come lo chiamate voi quello dello stemma del simbolo del del partito comunista prima si roncavano a mano cioè si carpivano perché il seme non era commercializzato quindi la produzione del seme era solo per il bisogno familiare quindi con quattro cinque chili di lenticchie stai bene tutto l'anno il la paglia delle lenticchie era apprezzatissima dagli allevatori di pecore perché comunque un legume proteico ed è corta quindi per la bocca delle pecore che non ha le mani era molto facile mangiarsela quindi mio nonno per esempio che che era pastore era più attento alla paglia delle lenticchie che alle che alle lenticchie poi diciamo siamo passati alle falciarici quelle a tre ruote ma l'abbiamo usate pochissimo perché i terreni nostri sono sono molto scomodi adesso praticamente le facciamo con la barra falciante che viene utilizzata per il foraggio ma abbiamo inserito del dei ristringitori praticamente che ce le incordonano e ci permettono di poter fare le altre passate con il trattore senza calpestarne una volta ristrette prima venivano fatti dei mucchiettini molto piccoli e venivano fatti essiccare una volta secchi venivano fatti dei mucchi più grandi coperti con i deli colorati questi pure sono rientrati nelle nei vari aspetti diciamo caratteristici della della coltivazione che hanno influenzato il il territorio perché le nostre vallate si riempivano di covoni coperti con tutti i teli di emergenza quindi spesso c'era la tovaglia piuttosto che un telo militare piuttosto che il il telo di canapa di di tanti anni fa questo non lo facciamo più perché la porta di mano d'opera è è infinito e quindi una volta diciamo ristrette in codoni le ristringiamo a due a due con il con il vecchio ranghinatore a pettine che si usava nella fienaggione abbiamo diciamo abbassato la velocità va un po più piano e non le non le fa cadere e poi praticamente abbiamo modificato le metri trebbie aggiungendo dei raccoglitori che normalmente vengono utilizzati per l'insilatura dell'erba medica e ce le raccogliamo direttamente da per terra con con questi macchinari quindi diciamo per darvi un rapporto di di assorbimento di mano d'opera un due ettari i miei genitori la mia famiglia le le raccoglieva ci volevano circa sei persone per raccoglierle io adesso da solo sono in grado di raccogliere circa sette ettari di lenticchi sei sei sette dipende da dalla forma dei terreni questo perché diciamo abbiamo l'apporto di mano d'opera è sempre enorme però questo è stato possibile perché negli anni i macchinari che ai tempi di mio padre di mio nonno negli anni ottanta erano inaccessibili alle piccole aziende agricole adesso hanno dei costi bassissimi e quindi siamo riusciti a ognuno ha comprato una metri trebbia prima la metri trebbia era considerata come una stranare ce n'era una per paese spesso qui a santo stessa però non c'era proprio veniva da bariciano veniva dal paese che sta più bassi in quota perché i prodotti si maturavano a mano che si saliva con l'altitudine quindi la metri trebbia saliva da da bariciano adesso il giorno che sono mature le devi raccogliere perché sennò se le mangiano e quindi ognuno c'è la sua metri trebbia grazie abbiamo un commento del professor annibale salsa che ringraziamo per essere qui con noi questa sera e salutiamo che che dice a posto concretamente buonasera professore buonasera carissimo grazie beh vuole dirlo senza che lo leggo io il suo commento direi che appunto a posto in evidenza un grosso problema che va affrontato in maniera non farisaica ipocrita perché difendere l'ambiente non significa difendere tutto vuol dire che difendere l'ambiente vuol dire salvaguardare la qualità la qualità della produzione agricola della produzione delle dell'allevamento la qualità dell'aria la qualità del paesaggio eccetera eccetera ma quello che ha detto Ettore è vero è fondamentale problema che abbiamo anche nelle zone alpine e cioè che c'è una crescita esponenziale della popolazione animale selvatica sia degli ungulati sia dei grandi predatori allora qui si innesca un cortocircuito pericoloso perché sembra quasi che chi pone giustamente in evidenza come ha fatto Ettore il problema è vero in qualche modo sia un nemico dell'ambiente ma vogliamo scherzare qui si riapre una conflittualità e antropologico culturale io sono un altro polo e quindi la vedo in questo in questa accezione una conflittualità tra l'ambientalismo cittadino che usa l'ambiente per la gita domenicale o attraverso una diciamo rappresentazione idealizzata di quel che il territorio dell'ambiente e la montagna o l'ambiente reale che è quello della quotidianità che l'allevatore il pastore il l'agricoltore vivono allora io non ci sto di fronte a questa contrapposizione ideologica tra un ambientalismo di città che si considera depositario dei valori assoluti e quello invece di chi vive il territorio che è considerato nemico dell'ambiente ma vogliamo scherzare questa è ipocrisia questa questa è atteggiamento farisaico e io da tempo sono impegnato in questa io sono un difensore e lo sa bene tommaso del paesaggio rurale del paesaggio alpino del paesaggio culturale dell'ambiente inteso come interazione comincia la convenzione europea del paesaggio tra uomo e ambiente e natura quindi una giusta equilibrata interazione ma usciamo dall'ideologismo usciamo dalle farmeticazioni di tipo ideologico dalle retoriche di un certo animale ambientalismo ecco mi fermo qua però vorrei volanciare questo messaggio perché io che conosco la campagna la montagna per averla vissuta da ragazzo no per averla vissuta e continuare a vivere anche se non direttamente non più come operatore del mondo rurale è fiatamente che il problema esiste e allora qui continuiamo a ripercorrere questo cammino di contrapposizione che non porta da nessuna parte genera delle crociate assurde però condivido appieno quello che ha detto cioè parole sante oltre che sagge il problema è che in questo modo a noi ci definiscono come dei vichinghi che armati di clava corriamo dietro ai caprioli che hanno dei bellissimi occhioni e loro si si definiscono i i buoni quelli che salvano che salvano mare natura il problema è che c'è stato uno scollamento culturale tra quello che è il mondo reale naturale quello che succede in natura è quello che la gente si immagina succeda la qui a qui nel nostro parco nazionale dovrebbe essere pieno di lupi secondo quello che vorrebbero i i dirigenti del parco purtroppo ai lupi non piace di stare al freddo in montagna come noi preferiscono i climi più umidi e quindi per esempio in questo periodo dell'anno stanno tutti al di fuori del parco nazionale c'è un paese qui sotto da noi a dieci chilometri che si chiama barisano quest'anno si sono mangiati centocinquanta cani poteva essere benissimo il cagnolino di chiunque di noi allora quello che che a me da fastidio è che non capisco per quale motivo dopo anni di bonifiche di questo territorio mia figlia debba uscire la sera alle otto come facevo io da piccolo e rischiare di incontrarsi con un lupo poi ti dicono al telegiornale nell'antologia non c'è traccia di aggressioni del lupo da parte dell'uomo fino alla prima volta cioè qua esistono branchi di cinghiali che quando scappano impauriti spesso perché gli sto correndo io gli ero con la macchina per cacciarli fuori dal campo di patate piuttosto che dal campo di farro ti possono investire ti possono mettere sotto ogni ogni giorno c'è un incidente spesso anche conferiti con tra macchine e fauna selvatica quindi bisognerebbe un attimo ricollegare far rendere conto alle persone quello che significa vivere a contatto con gli animali selvatici il farro che raccolgo e che stocco nel magazzino l'inverno me se lo mangiano gli uccelli se non faccio niente non è che me ne lasciano un po' me se lo mangiano tutto cioè madre natura ti si mangia tutto cioè non è come non condivide cioè non hai il concetto che abbiamo noi cioè ti si mangia tutto è un po' anche una lotta contro voglio usare ecco di questa via però qui c'è proprio una lobby che vorrebbe in fondo attraverso questo re selvatichimento quello che con parole parola anglofona chiamano re wilding no vogliono in pratica cioè la presenza dell'agricoltore la presenza dell'allevatore da fastidio l'obiettivo finale non è dichiarato non è dichiarato ma è quello di trasformare la campagna la montagna in una wilderness questo è signori questo è un processo di smascheramento che i veri ambientalisti devono fare perché quelle sono lobby che vogliono esattamente che persone come il nostro amico etro se ne vadano che lasciano campo libero ai selvatici questo è e comunque questo sta succedendo perché il uno dei grandi problemi dello spopolamento della montagna non c'è più nessuno che presidia la montagna e gli animali si riprendono gli spazi che gli erano stati sottratti negli anni con enorme fatica c'è un enorme condanna sociale per cose che non hanno senso l'altro giorno guardavo su facebook dei video che in cui si parlava della violenza durante l'uccisione dei maiali ma il maiale te lo vuoi mangiare cioè c'è per forza violenza cioè non può essere una non può essere conciliante il rapporto con il maiale quando te lo vuoi mangiare cioè mi sembra come quando si diceva di non mangiare più gli agnelli se non ci mangiamo più gli agnelli si estinguono perché non è che possiamo fare gli agnelli da compagnia a parte che non sarebbe più possibile fare il formaggio perché il caglio si prende esattamente dagli agnelli ma io se devo pensare noi lavoriamo anche il maiale lo alleviamo tutto l'anno il giorno che muore non viene trasportato non viene spaventato non viene sballottolato è un giorno come tutti gli altri solo che a un certo punto gli spariamo in testa allora è un animale comunque destinato all'uso alimentare quelli che alleviamo noi sicuramente fanno una vita migliore di quelli poi che vengono mangiati da tutti quelli che che parlano contro queste pratiche proprio così nel 2004 quando è stato istituito il parco del gran sasso sarebbe stato il primo parco antropizzato d'europa in cui la ci sarebbe stata una convivenza tra popolazione e fauna selvatica che all'epoca era limitatissima a oggi io mi sento dire che produco pressione antropica cioè io che coltivo i terreni che mio nonno ha bonificato con le mani da cui ha tolto i sassi e le spine e la resi fruibili se mi venite a trovare qua a Santo Stefano vi rendete conto di che terreni parliamo cioè di terrazzine posti in in zone dove solo con il muro si poteva accedere dove non ci si può andare più neanche con il frattore io quei terreni non li posso più coltivare non ho più la libertà di coltivarli perché qualcuno ha deciso che la diversità biologica da tutelare non è la mia lenticchia o la segale piuttosto che il farro piuttosto che i fagioli piuttosto che la biata piuttosto che l'arba medica perché si mangiano tutto ma è il lupo o il capriolo allora io a me non piace ammazzare gli animali quando ammazziamo il maiale mi giro dall'altro lato però non posso essere io che gli do da mangiare a tutti quanti cioè allora tutta questa politica va comunque gestita cioè se qualcuno ha deciso che ci devono stare con gli animali in qualche modo vanno contenuti controllati in Africa l'hanno capito negli anni ottanta che se non controllano la popolazione degli elefanti gli elefanti distruggono l'intero parco lo stesso sta succedendo qua non ci sono più uccelli che ne edificano per terra noi avevamo una una fauna diciamo una una quantità di specie diverse di uccelli infinita non ci sono più perché i cinghiali distruggono tutti gli ecosistemi la cosa paradossale che oggi a me mi chiedono se se voglio i contributi per seminare il grano perché così ci possono andare a dormire le starne dentro a me mi si arriccia la pelle quando mi dico una cosa del genere allora se tu il lente parco dovrebbe mettermi nelle condizioni di di poter coltivare il grano poter fare la farina poter vendere la farina far lavorare il mulino far lavorare quello che vende e poi le starne vanno a dormire nel grano benvengano ma non può essere il il fine cioè della della coltivazione il far dormire la starna non innesca nessuna filiera non innesca nessuna economia la perché ci sia economia perché ci sia un un discorso sostenibile ci deve sta il grano ci deve sta chi te lo miete ci deve sta chi te lo te lo te lo molisce e chi vende il pacchetto di farina se se semino per le starne il giorno che non mi danno più soldi io non semino più e in termini erariali nella situazione in cui ci troviamo è giusto spendere dei soldi per far nidificare le starne oppure indennizzare i danni che fanno animali che non hanno alcun valore biologico come i maiali non vorrei sembrare troppo pesante cioè la campagna è bella ci divertiamo tanto cioè non è solo il danno è anche stare insieme è sinergia è un modo di vivere cioè diverso da quello che è il il mondo il mondo del lavoro quello che hanno creato quello in cui cresci cerchi di far carriera già il bisogno di di laurearti di gratificarti noi viviamo in un mondo molto più semplice ma io in questi anni in questo ho fatto questo lavoro non sono mai stato da solo e siamo solo 60 tutto questo sta sparendo grazie 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 di questo approfondimento e grazie all'intervento del professor salsa che se vuole intervenire ancora molto molto volentieri e ci sono delle domande da parte di sergio sì un paio di domande diverse tra loro una te la faccio a nome della nostra associazione slow food e mi piacerebbe capire quanto sei come dire assistito o tenuto presente dell'associazione locale slow food se c'è un certo coinvolgimento anche su queste tematiche che avete appena affrontato sul discorso della fauna e delle difficoltà in agricoltura di questo aumento esponenziale di animali che devastano insomma le vostre culture per cui capire come si pone vicino a un presidio visto che presidio l'ha portato l'ha voluto insieme a voi l'associazione oggi c'è l'associazione con voi oppure siete solo un cartello di un presidio e basta questa è una prima domanda alla quale ti chiedo insomma se c'è una risposta diciamo che l'associazione il presidio l'associazione la la condotta ha fatto tantissimo per per il prodotto e ha fatto tantissimo anche per il territorio noi qui in abruzzo abbiamo penso cinque o sei presidi quindi il lo sforzo di promozione del prodotto è è grande però non bisogna come si dice cadere nell'inganno di attribuire responsabilità a chi non ce l'ha allora il noi abbiamo una quantità di enti infinite dal comune che è presente sul territorio e vive le realtà di persona direttamente alla provincia alla regione ai padronati perché poi ogni agricoltore è costretto a iscriversi a un padronato perché tutti i sistemi automatici di gestione delle domande degli indennizi dei rimborsi non funzionano come come dovunque da soli bisogna per forza passare per un padronato quindi tutte queste figure non fanno niente è è difficile pensare che che lo food possa risolvere la situazione che ci siano diciamo vicini e che capiscono qual è la realtà del del problema quello indubbiamente anche perché spesso sono sono degli amici il fiduciario di adesso che è da poco che c'è veniva le elementari con me questo è il quando c'è poca gente poi succede in abruzzo quindi diciamo il il rapporto è è molto vicino e loro capiscono perfettamente il problema ma che che possono fare quando il il parco instaura questo tipo di politica non non c'è nessuna possibilità di appello anche perché come succede per gli enti pubblici in cui la valutazione del rendimento viene fatta dal dirigente dell'ente nel parco a fine anno la valutazione della fauna selvatica dei danni prodotti e di quelle che sono state diciamo le misure di contenimento se lo fanno da solo da noi si dice se la suonano e se la cantano quindi cioè se se nessuno fa niente io da da io la condotta slow food posso solo ringraziarla per quello che è la il il lavoro di di promozione di pubblicità che fanno però diciamo sono sono altre le figure a cui mi rivolgo in maniera polemica o o critica cioè non è sicuro il il presidio chiaro chiaro compreso e fa piacere che almeno il il siamo collegati l'associazione c'è per quello che può fare chiaro che su temi così probabilmente non abbiamo tutta questa forza esatto ma la seconda domanda che mi sì dimmi dimmi cioè quello che su cui vi volevo far riflettere è quanto quanto sia paradossale questa situazione allora ci sono territori in cui danno incentivi ai giovani perché tornino alla campagna ci sono posti in cui bisogna sovvenzionare i mulini sovvenzionare i frantoi sovvenzionare tutti il i casefici perché non c'è mercato perché non c'è possibilità di venderla il tutti gli agricoltori sono soggetti ai ai testisti sicuramente conoscete il il mercato agricolo che è in mano a chi commercializza e non chi produce o chi vende no come chi fa i finocchi che è per forza vincolato dal dall'impianto di trasformazione che se quel giorno non li porta è costretto a interrarli oppure le arance che ogni anno gli cambiano la confezione quello deve rispondere altri soldi per cambiare la macchina perché il mercato vuole il pacchetto affogliato e da due chili e mezzo invece che da tre l'anno in corso noi abbiamo un mercato perfetto un prodotto nobile una diversità biologica con delle caratteristiche particolarissime che oltre al alla propria di di qualità si porta dietro tutta una serie di prodotti correlati altrettanto nobili come il grano solina il farro rosso la segale cornuta abbiamo questa situazione funzionante con il turismo che assorbe tutto quello che vendiamo non lo possiamo fare perché ci se lo mangiano i cinghiali cioè sarebbe da mettersi a ridere cioè l'unico posto in cui l'economia funziona non ci servono le filiere non ci serve niente non ci serve il finanziamento non ci serve il psr non possiamo fare più niente perché qualcuno ha deciso che ci devono stare i lupi caprioli e gli ungulati cioè su questo bisognerebbe secondo me farsela una domanda cioè io preferi quando dicono avete io nel 2016 ho risposto al al primo ho preso il primo insediamento il piano di sviluppo rurale che finanzia l'europa e viene elargito tramite le regioni nel 2016 ancora sto aspettando i rimborsi di soldi spesi nel 2016 allora l'unico motivo perché la mia azienda è ancora aperta e continuo a pagare il leasing del trattore nuovo le rate della della trebbia e perché abito a santo stefano di sessagno e da solo mi vendo le lenticchie se qualcuno mi dice hai bisogno di aiuto rispondo grazie faccio da solo perché i finanziamenti se non avessi avuto la fortuna di fare le lenticchie ma avrebbero fatto diventare indebitato con l'erario per pagaliva e con le banche che ha dei tassi vergognosi ma avrebbero prestati soldi quindi anche tutto il modo di di allargire i finanziamenti funziona pochissimo funziona a chi ce la fa da solo agli altri non non danno nessun aiuto bravo bravo ma in tutto questo casino però mi fate 35 mila presenze all'anno in un paese mignon dove non penso che ci sia altro che certo non penso non capisco ma cosa vengono a fare 35 mila persone da voi l'ho chiesto spesso è una proporzione cosa sono venuti a fare il il meccanismo è è molto particolare da noi viene gente dalla nuova zelanda dalla dalle hawaii io ho visto un passaporto di uno nato a onolulu che uno si aspetta ma esiste veramente onolulu c'è ho visto il passaporto c'è gente che viene dall'america dalla russia perché praticamente essendo molto bravi e avendo i prezzi bassi perché fondamentalmente dipende da quello noi abbiamo le recensioni turistiche con devoti altissimi quindi se veniamo acquistati a nostra insaputa e rivenduti per per la crescita turistica i passaggi questa è la mia opinione però non prendetela come si dice con il beneficio di inventari con le pinze però da quello che ho visto che è stato lo sviluppo territoriale noi abbiamo iniziato alla fine degli anni ottanta offrendo solo da mangiare dopo il mangiare c'è bisogno del dell'accoglienza c'è bisogno del pernotto e dopo il diciamo il poter dormire c'è bisogno dell'intrattenimento e quindi di tutto quello che è correlato al turismo i servizi le escursioni le passeggiate le la possibilità di noleggiare cavalli biciclette canone tutto quello che poi cresce col tempo per fare questo noi ci abbiamo messo più di venti anni nel 2004 abbiamo fatto il primo passaggio fondamentale secondo me che è quello di essere in grado di ospitare più di 55 persone perché 55 55 sono i posti che stanno su un autobus il turismo di massa si porta in autobus non gli puoi dire che fai dormire metà autobus sì e l'altra metà no questo succedeva già nel 2004 nel 2012 2013 dopo che ci siamo ripresi dal terremoto abbiamo fatto l'altro gradino cioè la gran parte di delle persone che fanno turismo come noi è passiva sulla rete fino a un po di anni fa per trovare santo stefano dovevi conoscere almeno le parole santo stefa e poi il computer suggeriva di cadore di sessanio e quindi forse cliccavi santo stefano di sessanio adesso ci sono delle compagnie turistiche che ci rivendono che propongono noi nel pacchetto turistico a quelli che vengono dalla nuova zelanda tante volte ho chiesto ma come avete fatto a ritrovare un paesino così piccolo da un posto così lontano e mi rispondono sempre noi facciamo un viaggio organizzato vediamo roma firenze e santo stefano sorrento amalfi e santo stefano quindi diciamo questo incremento non ho capito comunque questo enorme incremento di presenze turistiche è dovuto a questo è dovuto al fatto che se qualcuno si fa sede non lo so a boston a chiedere una vacanza in italia c'è un altro che gli dice devi andare a santo stefano ho capito vabbè impareremo anche questo nonostante vuol dire noi stiamo anche troppo bene è un certo qui si sono create delle condizioni cioè nel vicino santo stefano c'è un posticino che si chiama il fornetto d'abruzzo le olive hanno una produzione di 25 kg d'olio a quintale e per chi è esperto di olive è una resa che è quasi il doppio di quella normale perché si sono diciamo se tre si è creato un connubio perfetto tra varietà di piante e microclima della zona qui a santo stefano si è creata la stessa cosa cioè noi in tutti gli abitanti si sono mossi verso la stessa direzione negli anni novanta quando noi ristrutturavamo gli appartamenti ci prendevano in giro se andavamo al bar del paesino vicino sorridevano quando ci vedevano perché ci chiedevano ma che state facendo al sopra la piana di campo imperatore non so se ci siete stati mai nel territorio di nel del parco nazionale campo imperatore diciamo spesso si confonde con le piste dove ci sono gli impianti sciistici quello però è per chi non lo vive chi vive campo imperatore va alla piana di campo imperatore e alla fine della vallata c'è un rifugio dove è possibile acquistare la carne di pecora cruda e cuocersela su del barbecue sembra di sta woodstock se uno ci va l'estate ci staranno due tremila persone ogni anno quel signore ha opzionato il il rifugio nel 1969 lo prendevano in giro che già che ci devi fare quest'anno con quello che è successo a causa del covid nel mese di agosto affettava 180 filoni di pane ogni giorno cioè quindi immaginatevi il volume di gente cioè il turismo non cresce da solo o c'è un volano importante come gli impianti sciistici come può essere il mare come può essere uno stadio come potevano essere le gare di tattilografia che negli anni 80 si facevano a montecatini non so se vi ricordate montecatini se ne parava come era un turismo politico l'italia fino alla fine degli anni 80 ha vissuto soprattutto di turismo di ritorno quelli che tornavano da dalla frangia dal belgio dai paesi dove erano emigrati i genitori quello è morto perché diciamo la terza generazione di emigrante non torna cioè quello che è andato per primo tornava tutti gli anni nostalgico il figlio tornava meno il nipote non è tornato più quindi diciamo tutti questi questi tipi di turismo sono molto soggetti ai cambiamenti negli anni quello nostro è cresciuto spontaneamente ma è stato diciamo una serie fortunata di eventi cioè non c'è una formula ma la fama della lenticchia dove è nata non ho capito scusa la fama della lenticchia dove è nata la spinta grande ce l'ha avuta nel 2005 dopo che abbiamo fatto il presidio abbiamo iniziato a frequentare terra madre e abbiamo iniziato diciamo una campagna pubblicitaria un po più importante però pure su questo la grossa produzione di lenticchie che facevamo noi fino all'ottantatré l'ottantaquattro era di lenticchia verde quella che si vende a norcia o a castelluccio la coltivavamo e la vendevamo a 3000 lire al chilo a un commerciante che la portava tutta quanta in umbe quella nera che è quella nostra che il colore della lenticchia nostra è marrone non è verde la coltivavamo in maniera limitata perché era meno come si commercializzava di meno noi i primi pacchetti l'abbiamo iniziato a falli inizio degli anni ottanta però fino alla fine degli anni novanta il mercato della lenticchia era conosciuto all'aquila e nel territorio abruzzese o pensa un po io vendo la coca per 100 euro al grammo non lo so non lo so è un altro tipo di commercio comunque beh sì ok è illegale hai fatto anche molti soldi esatto beh invece come sa basta signora rimuoviamo chi stava disturbando eh ok e graziella ti ti chiedo di intervenire a questo punto siamo verso la conclusione per grazie alla portavoce della comunità pro sviluppo agricolturale degli altipiani cimbri e con la quale abbiamo organizzato questa serie di incontri bene ciao a tutti è stato veramente dire interessante dir poco praticamente posso dire che così ecco a livello proprio emozionale ho fatto proprio un viaggio non via un viaggio restando ferma eh e trovando tanti tanti agganci ecco con la con la nostra realtà io parlo anche della frazione in cui vivono la frazione di folgaria che è nosellari e a 130 abitanti quindi siamo molto siamo molto vicini al discorso di santo stefano anche noi partiamo con una piccolissima realtà abbiamo iniziato da pochi anni a la coltivazione del porro l'abbiamo riscoperta e stiamo cercando di lanciarla ehm abbiamo dei produttori che eh anche loro hanno cambiato lavoro così eh come Ettore eh abbiamo un ingegnere che è anche collegato con noi l'altro non so se c'è l'Andrea ma che lui è un filosofo quindi eh diciamo che mh sto rilevando ecco veramente questa sera più che in nelle altre due delle delle consonanze delle semplici 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 semplic azienda agricola Ettore Ciarocca io le stavo chiedendo prima di avere un'interferenza lei come se la passa invece per l'azienda agricola stavo finendo di parlare Sì ecco credo che la mia domanda siamo ok prego Sella sì appunto dicevo che ma questa è censura diventa per me per me il nostro piccolo paese è un obiettivo un esempio da imitare la domanda che mi ponevo era proprio quella relativa a questa grossa popolarità di Santo Stefano di Sessanio chiedere proprio se l'intervento di privati e in particolare del discorso dell'albergo diffuso è stato diciamo così determinante nel cambiamento proprio di rotta del paese ecco e quindi del turismo sì è stato diciamo importantissimo l'apporto dell'albergo diffuso anche perché diciamo che è stata la prima struttura organizzata che si occupava di turismo non a gestione familiare quindi diciamo ha spinto verso l'alto quello che era il livello e la qualità ha un po' di tutti e poi ha fatto tantissima tantissima promozione ma soprattutto perché il proprietario che si chiama Daniele Kilgren un amico non è uno speculatore è un filosofo pure lui e quindi più che al al guadagno quello che quello che in cui crede è il è il principio è il sogno che racconta cioè nelle nostre case si vive l'atmosfera che si viveva tanti tanti anni fa cioè si ripropone un turismo povero come quella che era la vita dei paesi di una volta e quello che si ha è il senso di familiarità perché la professionalità non ce l'abbiamo perché facciamo più o meno altri mestieri perché veniamo da altre esperienze da altre formazioni culturali e quindi diciamo questo è quello che trova tanto il che apprezza tanto il turista e comunque cioè 74 partite IVA su 65 abitanti cioè io penso pure Breatore rimarrebbe in pallidirebbe cioè quando si parla di imprenditorialità cioè quando si parla di capacità di mettersi in gioco perché avremmo potuto fare quello che fanno tutti gli altri passare le vacanze a Santo Stefano organizzare il tiro alla fune il palo della cuccagna prima lo facevamo fino agli anni 80 organizzavamo le gare di endurance noi organizzavamo una gara di endurance 130 km su un unico anello veniva lo scicco del Qatar partecipava rimaneva qui una quarantina di giorni però abbiamo deciso di fare altro e quindi il paese ne ha risentito per forza di tutta questa volontà ma anche perché cioè in questo periodo di pandemia c'è stata un'opportunità enorme secondo me è stato un po' come vi ricordate il film di Natale che lo spirito del Natale ti porta indietro nel tempo e ti fa vedere quando eri cattivo e ti dà la possibilità di redimerti qui abbiamo rivisto quello che sarebbe il paese senza il turismo non c'è nessuno è un posto morto non ci sarebbero servizi non ci sarebbe il bar non ci sarebbe chi pulisce la strada non ci sarebbe niente quindi cioè il turismo che si è creato è l'unico modo per mantenere vivi questi territori e il turismo unito all'agricoltura è l'unico modo per mantenere viva l'agricoltura in questi territori quell'agricoltura che viene tanto raccontata non ve l'ho detto ma noi siamo quelli con i papaveri nel grano cioè quelli bravi quelli che che fanno una buona agricoltura grazie noi abbiamo chiesto a diciamo agli abitanti ecco del nostro piccolo paese di mettersi diciamo così di iniziare ecco ma per il momento non c'è verso nessuno ha voglia di ristrutturare praticamente è del ma chi me lo fa fa ecco cioè vivono e si accontentano del di quello che hanno intorno e e sperano però diciamo non c'è la quindi noi abbiamo pensato proprio di unire agricoltura e turismo ma le difficoltà sono davvero tante soprattutto di tipo culturale esatto però diciamo quando le dicevo che sono una serie di cose fortuite e fortunate noi abbiamo indovinato il periodo storico noi abbiamo iniziato questo negli anni 90 in cui i finanziamenti i contributi per le ristrutturazioni il recupero delle strutture erano erano più massivi ce ne erano di più c'era era più facile c'era più benessere e poi pure qui cioè siamo 70 però io non so all'Aquila abbiamo un altro presidio che è quello della salsiccia di fegato il signore che lo rappresenta si chiama Mauro partecipiamo spesso al soprattutto negli anni nel 2014 prima che uscissero i piani di sviluppo rurale il census è venuta tante volte ad incontrarci qui sul territorio per qual era la formula per la cucitura del tessuto sociale come dicono loro di quale sarebbe stato il modo migliore di elargire i bandi e la parola che era tanto di moda all'epoca era sinergia non so se ve lo ricordate adesso è diventato riuso riciclo negli anni 80 era progresso crescita quando si parlava di sinergia il Mauro il signore che fa la salsiccia di fegato raccontava sempre la barzelletta del genio e degli aquilani noi all'aquila siamo molto particolari due aquilani trovano la lampada di Aladino la strofina il primo e il genio gli chiede il primo desiderio e gli dice voglio 200 pecore passa al al secondo aquilano che strofina anche lui quando esce il genio gli chiede il desiderio quello gli dice fai morire pecore di quell'altro non gliene chiede 300 allora questa è la situazione nei territori di montagna noi qui lavoriamo insieme solo per gruppi omogeni omogeni culturalmente cioè non è che tutti e 70 facciamo gruppo o stiamo tutti quanti insieme perché non cioè è impossibile collaborare tutti quanti bene grazie Ettore e un altro intervento aggiungo una cosa cioè rispetto al porro che comunque è un prodotto validissimo il legume negli anni ha subito ha avuto una grossissima pubblicità anche a livello internazionale nel 2016 la FAO ha indetto l'anno internazionale dei legumi e li raccontava come l'alimento che avrebbe salvato il mondo dalla fame perché non ha bisogno della concimazione biologica che produce gas e serra il metano si adatta ai territori montani alle piccole economie quindi diciamo in questo periodo in cui l'attenzione per gli alimenti è aumentata tanto commercializzare il legume è un po' più facile anche per questo abbiamo questo successo in più la lenticchia non va messa a mollo e quindi è l'unico legume che ti riesce a mangiare se non ci hai pensato la sera prima e chi è che la sera prima pensa a quello che si mangerà il giorno dopo quindi fagioli ceci lupini cioè perdono come si dice facilmente terreno nella concorrenza con le lenticchie Diego ci chiede l'età media più o meno degli abitanti del paese che su 65 è anche facile fare la media insomma guarda la media supera i 70 anni i giovani mia figlia è stata la prima a nascere nel 2016 dal 96 il nostro enorme problema è che abbiamo il buco generazionale cioè manca la generazione di quelli che oggi avrebbero dovuto avere 20 anni 25 anni io ce ne ho 45 e quindi abbiamo abbiamo superato il punto di non ritorno cioè qui la popolazione non ricrescerà mai perché siamo troppo pochi però visto che c'è un'economia importante verremo sostituiti il professor Salsen ci scrive poi se se vuole intervenire molto volentieri l'abbinamento fra agricoltura e turismo è l'unica vera possibilità per la montagna in alto addis è stata la formula vincente che ha mantenuto i contrattini in montagna contrastando lo spopolamento esatto questa è la verità perché diciamo sul versante italiano delle Alpi ovviamente anche tutto il resto della montagna italiana quindi anche la dorsale peninica questo è presentato un'eccezione che si differenzia anche dal vicino Trentino perché pur essendo le due province abbastanza virtuose da questo punto di vista però la differenza la fa l'Alto Adige perché appunto lì non c'è stato l'abbandono della montagna e l'abbandono della montagna non c'è stato per due motivi innanzitutto prima di tutto la forte presenza del peso degli agricoltori del peso degli accontadini della federazione dei contadini e poi dell'assetto fondiario del territorio cioè la impartibilità e lo scarso frazionamento anzi l'assenza di frazionamento perché il vero problema che non consente il mantenimento dell'attività agricola è l'eccessivo frazionamento allora in questa direzione nelle zone dove il frazionamento c'è stato quindi dove prevale il diritto latino legato alla partibilità dei fondi è vero che cosa si è fatto si è messo mano hanno cominciato in Francia negli anni 70 con le associazioni fondiarie e poi nel vicino Piemonte quindi nel versante opposto degli alpi occidentali si è cominciato a mettere mano a questo tipo di operazione anche in Trentino si sta andando in quella direzione cioè laddove c'è un ordinamento di tipo romanistico e quindi basato sul principio dell'ereditarietà del fondo della sua partibilità l'unico modo è quello di far sì che chi non coltiva più la terra chi è emigrato chi non ha più metta a disposizione la propria proprietà ovviamente non cedendo la proprietà ma facendo costituendo delle associazioni fondiarie quindi devolvendo l'uso diciamo una sorta di l'uso la proprietà d'uso al conduttore del fondo che in questo modo avendo a disposizione terreni più ampi può mettere mano a un'agricoltura sostenibile e un'agricoltura che abbia non solo basata sull'assistenzialismo ma anche proprio sul profitto quindi il fatto di avere un reddito attraverso l'attività agricola evitando quel mal estremo del riservatichimento a cui facevo a cui facevo riferimento e vedo qui il riferimento del fatto che se sale Santo Stefano si trova nel parco certo per certi aspetti è un vantaggio bisogna dire come si governa un parco io non sono contrario ai parchi il problema è la governance ecco il rischio delle crociate parco sì parco no i partiti pro parco contro parco non va bene il problema è come lo gestisci io ho visto tanti parchi diversi diversissimi e gestiti in modo diverso quelli che vengono gestiti in una logica di vero inservatichimento di riservatichimento chiaramente non consentono lo svolgimento di un'attività agro pastorale adeguata e quindi remunerativa come giustamente affermava il nostro amico ecco quelli invece che riescono a conciliare le attività allora chiaro a quel punto il fatto di essere all'interno di un'area protetta tutelata sia dal punto di vista naturalistico ma aggiungo dal punto di vista paesaggistico perché il mio impegno la mia battaglia è per il paesaggio ecco dove c'è natura e cultura una e l'altra non solo la natura ma anche la cultura cioè l'attività ecco questa è la strada virtuosa questa è la strada virtuosa no in Svizzera noi abbiamo esempi di parchi che vengono gestiti secondo la logica del paesaggio culturale mi fermo qui per ora se posso il problema diciamo dello spopolamento della gestione dei parchi fa parte tutto quanto di un discorso un po' più complesso perché il motivo pure per cui l'agricoltura non cresce o non c'è interesse non c'è ritorno nelle montagne eppure per il modo in cui vengono contribuiti in cui vengono elargiti i fondi cioè alla fine si è fatto in modo che il prodotto non abbia più valore e che quello che conti sia solo il contributo europeo che viene elargito ogni anno i miei amici allevatori se non avessero il contributo europeo non sarebbero in grado di sostenere l'azienda quindi diciamo oltre allo spezzettamento dei fondi e quindi creare tanti piccoli pezzettini non utilizzabili ma pure il modo in cui viene fatta la politica agricola perché noi siamo passati da una contribuzione sulla produzione alla fine degli anni 80 da quando c'è la comunità europea siamo passati alla contribuzione sulle dimensioni e quindi vengono innescati dei meccanismi malati in cui l'agricoltura è diciamo è la scusa però poi quello che viene fatto sono solo speculazioni finanziarie gli ultimi gli ultimi sette anni di PAC sono stati disastrosi non so se avete avete confidenza o ne avete mai sentito parlare però contribuire aziende che invece di mucche o pecore acquistano asini e poni significa andare contro quelli che sono i principi economici perché quelli non sono animali che innescano economia nel territorio quelli servono solo per percepire i finanziamenti quindi il modo in cui viene finanziata l'agricoltura l'immaginario collettivo perché perché si ripopolino le aree interne ci vuole gente che ci vuole andare ad abitare quelli che parlano della montagna e delle aree deserti abitano nei capoluoghi cioè in Italia io scherzavo sempre quando facevo l'ingegnere non nasce un operaio da più di 50 anni nascono solo avvocati e dottori comunque l'immagine che viene proposta delle persone non è vestita come una volta in campagna con le mani sporche le unghia rotte viene sempre trasmesso un'immagine del manager di chi va in giro in giacca e cravatta col cellulare che riceve le mail prende l'aereo arriva a New York con quattro ore che deve andare a fare con quattro ore cioè è tutto è tutto un sistema che ancora non è adatto al ritorno all'agricoltura io nel 2014 si parlava tantissimo della decrescita del territorio non so se vi ricordate la decrescita felice ma io non ho visto nessuno che ha fatto la mia scelta almeno qui a qui dove vivo perché è una scelta difficile perché è una scelta comunque faticosa è una scelta che se non hai delle basi io l'ho fatto perché avevo l'azienda di mio padre se no io non ci sarei mai riuscito quindi le domande sono tantissime i punti in cui intervenire è il paesano che non ha voglia di aggiustare il pagliaio di famiglia è la comunità europea che contribuisce le finanziarie e le banche e le assicurazioni piuttosto che il contadino è il parco che ti manda via dalla montagna è tutto un insieme di cose che poi hanno questo come risultato le aree interne si spopolano grazie Ettore vediamo di avviarci verso la conclusione Milena per tornare anche con un po' una nota di ottimismo chiede un approfondimento su quella cooperativa delle ore di cui parlava all'inizio quella collaborazione appunto tra agricoltori per condividere la propria manodopera sì niente noi praticamente siamo un gruppo di persone non è che abbiamo un consorzio oppure abbiamo abbiamo uno statuto o ci siamo formalizzati in una in un'associazione però nel tempo ci siamo selezionati e collaboriamo fra di noi per esempio nel periodo della semina lavoriamo insieme nel periodo della mietitura della trebbiatura lavoriamo insieme lo stesso quando bisogna carosare le pecore quando bisogna fare i vaccini alle mucche e quindi piuttosto che pagare persone che lavorino per noi mettiamo a disposizione il tempo libero che abbiamo il principio che regola tutto è che se puoi fare da solo devi fare da solo se però c'è bisogno di aiuto se l'attività è impegnativa visto che poi l'apporto delle famiglie di una volta non c'è più perché le famiglie numerose come prima non esistono più quindi se c'è bisogno ci aiutiamo in più riusciamo anche a chiudere il ciclo biologico io per esempio non ho animali perché un'azienda agricola sia effettivamente sostenibile ci vogliono anche gli animali non per forza un tipo di animale però comunque le pecore le mucche cavalli sia per la produzione dell'etame sia per il consumo dei residui di quelli che sono gli scarti di lavorazione delle puliture io per esempio collaboro con un ragazzo che ha 800 pecore e produco il fieno per lui quindi durante il periodo della fienagione lavoriamo insieme lui alleva il maiale io mi compro il suo maiale oppure mi compro il suo agnello e quindi diciamo collaboriamo la cosa più bella che abbiamo fatto è che io sono l'unico che ha il punto qui a Santo Stefano e raccolgo i prodotti di parecchie persone che prima seminavano qui a Santo Stefano ma in maniera saltuaria perché non sapevano come commercializzare quello che facevano c'è gente che se fa tante lenticchie un anno l'anno dopo non le semina perché tanto se le mangia solo a casa invece io nel mio negozio raccolgo i prodotti di altre persone a cui ho dato la semina per esempio oppure a cui trebio le lenticchie a cui aro i terreni e le vendo nel mio punto vendita quindi loro si impegnano a seminare e io ho la possibilità ho la disponibilità del prodotto anche quando a me se lo mangiano perché non è detto che se lo mangiano a tutti e quindi in questo modo creiamo una sinergia importante Dico chiede quante aziende agricole avete coinvolto in questo progetto? Siamo circa sei cinque, sei poi insomma la collaborazione non è fissa perché dipende pure dalle disponibilità di tempo quindi quando siamo tutti quanti siamo circa sei, sette persone però qui ancora si fa spesso si fa la mietitura tutti insieme la trebbiatura tutti insieme quindi che ne so tranne chi lo fa per lavoro quelli che poi hanno il pezzettino di terra e fanno il grano per le galline o piuttosto per fare la pasta ammassata a casa capita che poi il giorno della mietitura stiamo tutti quanti insieme mangiamo insieme ed è un po' come una festa come quando si faceva una volta Prima ci siamo persi una domanda di Gabriele che chiedeva se i ristoranti della zona insomma che uso fanno delle lenticchie e se oltre al classico piatto di lenticchia avete qualche altra ricetta caratteristica beh diciamo che la morte della lenticchia è a zuppa al limite con del pane fritto c'è qualche variante con la salsiccia con le volarelle però normalmente la cucinano solo la lenticchia la cosa bella è che cucinano le lenticchie e sul menu c'è il nome del produttore delle lenticchie quindi non è la classica etichetta prodotti in Europa o origine italiana c'è scritto le lenticchie di Ettore per esempio piuttosto che le lenticchie di Ovidio o le lenticchie di Stefano ci sono altre domande oppure siamo andati un po' più lunghi delle altre sere bene vuol dire che il racconto è stato sicuramente stimolante a parte qualche interferenza però abbiamo gestito qualcun altro ha degli interventi delle domande altrimenti ci avviamo verso i saluti Maurizio stai salutando o non ti sentiamo senti? senti? ecco io proporrei un gemellaggio così un po' scherzoso con Ettore e noi mandiamo giù la nostra polenta e loro mandano su i loro cinghiali e quindi ci facciamo polenta e cinghiare ma guarda va bene sistemiamo la cosa io pago io pago i viaggi ai cinghiali piuttosto che dargli da mangiare preferisco pagargli il viaggio fino a sopra va bene l'ultima domanda è un po' retorica ma insomma abbiamo deciso di farla a tutti è la tua azienda tra dieci anni nel 2030 quali progetti quale visioni su un lungo periodo ti sei posto? se continuo così farò solo salame di capriolo specializzati in salame di capriolo l'idea che ho di crescita è di insomma di creare la produzione è più o meno quella che faccio cioè per il tipo di terreni che ho e le dimensioni che ho non penso che diventerò un latifondista però la possibilità di creare una specie di mercato contadino un punto in cui trovare i prodotti del territorio sapendo chi effettivamente l'ha coltivato e come questo sarebbe un ottimo risultato secondo me in più nel tempo stiamo cercando di inserire anche una parte didattica legata alla diciamo all'agricoltura sociale all'agricoltura volta pure alle alle dimostrazioni alle scuole ai bambini all'avvicinamento di chi è un po' estraneo perché cerchiamo di differenziare il rischio visto che produrre è diventato molto difficile questa sarà probabilmente un'alternativa grazie bene allora se arriva un'altra domanda altrimenti iniziamo con i saluti vi ricordo l'appuntamento giovedì prossimo e poi stiamo definendo anche il calendario per gli incontri di marzo quindi proseguiamo dopo l'appuntamento di giovedì prossimo andremo in Val d'Aosta e faccio anche un accenno ad altri due appuntamenti che abbiamo nel frattempo martedì prossimo facciamo una degustazione di olio extravergine d'oliva quindi sul modello se qualcuno ha partecipato della degustazione di formaggio consegneremo a casa le bocettine con diversi tipi di olio poi la sera ci troviamo online e un esperto assaggiatore ci condurrà insomma nelle tecniche di degustazione e domani ne abbiamo parlato all'inizio inizio c'è una cena della comunità Slow Food di produttore e coproduttore dello zafferano di Ken che fortunatamente ha già tutti i posti esauriti quindi lo dico solo per informazione e sarà per la prossima volta altri appuntamenti l'8 marzo presenteremo un libro dedicato alle donne viaggiatrici sempre come la comunità dello zafferano adesso ve li dico così poi li trovate su facebook insomma il 2 marzo incontriamo Giampaolo Girardi di Propostavini che ci presenterà il progetto di Vini dell'Angelo e quindi insomma ci sono parecchi appuntamenti rimanete sulla pagina facebook della condotta per avere tutti gli aggiornamenti intanto arrivano i complimenti e i ringraziamenti da parte di coloro che ci hanno seguito Milena ringrazia Sandro chiede il cognome di Ettore e ci arrocca grazie prego bene quindi io fermo la diretta su facebook e cominciamo ok grazie Ettore e speriamo di venirti come diciamo in tutti gli incontri che stiamo facendo ci stiamo impegnando a fare il giro d'Italia appena si potrà insomma ma sei di sicuro incuriosito molto stimolante dire la cosa tra l'altro ho guardato durante la la discussione qualche immagine della zona lì del paese è veramente bello grazie poi Santo Stefano è particolarissimo anzi è unico in Italia ma non mi prendete per un campanilista però in fondo lo sono però noi abbiamo un'identità architettonica che in nessun altro posto trovate perché negli anni ottanta quando si costruiva il cemento armato quando si facevano le villette i garage le rimesse intorno ai paesi a Santo Stefano c'era ancora un fortissimo esodo rurale quindi noi siamo l'unico posto in Italia in cui finiscono le mura di cinta del borgo storico e inizia la campagna non abbiamo nessuna influenza diciamo moderna su quella che è l'architettura poi da noi c'erano le case mura non c'è la fortificazione come i fortini medievali quindi abbiamo le case limitrofe che costituivano la fortificazione del paese finiscono a ridosso dei campi seminari quindi diciamo oltre al centro storico carino le stradine in pietra le case in pietra questa è la caratteristica che ci rende unici in tutta Italia questo perché dobbiamo ringraziare l'esodo rurale che negli anni 80 la gente scappava e non ha rovinato niente esatto invece di mettere la finestra d'alluminio piuttosto che la porta di ferro come spesso si è fatto nei paesi in cui si viveva in cui c'era gente che ci abitava in quegli anni noi abbiamo avuto l'enorme fortuna non sono tornati gli emigranti dai vari paesi dal mondo facendosi la casetta che è in forma australiana che è la casetta belga noi siamo rimasti integri in una maniera importante questo ci caratterizza sicuramente bene non vediamo l'ora di venire mi aspettiamo mi aspettiamo poi tutti dicono ma perché vanno tutti a Santo Stefano perché è l'unico posto dove c'è da dormire perché è come quando dicono ai ristoranti buoni ci trovi i camionisti dove c'è il parcheggio ci trovi i camionisti se no bene bene complimenti ancora grazie per la per la tenuta in quelle condizioni lì è veramente difficile guardare avanti giorno per giorno per cui veramente complimenti grazie volevo dire che sarebbe interessante sarebbe interessante che potessi partecipare anche ai prossimi incontri come diciamo in modo tale che si articoli il dibattito dell'agricoltura anche con diciamo con le testimonianze ecco per esempio la prossima volta sarebbe in Val d'Aosta e ci fossi anche tu ad ascoltare ecco ad ascoltare e intervenire così pure magari invitare anche diciamo l'azienda agricola del Monteporo e quella della Valgerola in del Bitto del Bitto ecco in modo che si allarghi la platea e si intrecci ancora di più il il dibattito in modo che i vari punti d'Italia questa è secondo me la cosa bellissima di questa di questi di questa queste nostre di questi nostri incontri è proprio quella ecco che c'è un'Italia che si incontra che si confronta e direi che siamo a un livello alto me ne compiaccio posso posso farlo bene grazie per l'invito volentieri volentieri partecipo ti manderemo l'invito allora grazie grazie mille bene proseguono i ringraziamenti ti ringraziamo di nuovo e penso che posso altrimenti abbiamo provato a vedere che continuando a parlare in realtà si andrebbe avanti tutta la notte quindi ad un certo punto devo eh devo chiudere il il collegamento quindi dai ci salutiamo e alla prossima veramente sarebbe bello averti con noi nei prossimi incontri di sicuro ti mando il il link vedo collegata Elisabetta forse prima avevo chiesto di fare una domanda poi ho visto che era sparita non so se Elisabetta Monti forse ok niente ok allora vi ringrazio tutti a giovedì prossimo allora ciao 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 bella ciao grazie ciao bella ciao ciao roberto ciao ciao complimenti bravi piacevolissima ciao roberto ciao ci sentiamo ciao roberto ciao grazie ciao 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 graziella ciao 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 Maurizio ciao a tutti arrivederci professore grazie grazie mille degli interventi grazie ciao Sandro ciao 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 mille ma ti sta su parla sotto mi pari una di un povero nel letto no ma mi sono nel letto quello lo capisco bella la massa oggi sono andato giù di brutto allora poi va bene dai metterò insieme il mio peperoncino con le lenticchie beh insomma la lenticchia è un po' piccante eh sì è bello che picca mettiamo qui per noi eh no dai che vergogna consigliato i peperoncini ci sono bene lo stesso va bene ciao ancora ciao grazie mille ciao a tutti grazie ciao a tutti